Commentiamo che Juncker prende atto di quello che noi già sappiamo, perché Renzi prima di tutto non è mai stato votato dagli italiani, quindi è un governo nei fatti inesistente. Il semestre europeo è stato un fallimento, non ha messo a progetto assolutamente nulla, aveva investito pure tanto nella Mogherini, adesso si è rivoltato e le ha voltato le spalle, quindi Renzi è così. È fuffa, è fuffa.